Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi con il ritorno dei pronostici di Serie B Seconda giornata, vi ringrazio per il supporto che state dando ai format relativi alla Serie B Perché questo è un canale che parla solo di questo campionato ragazzi E oggi siamo qui per l'appunto con la seconda giornata da pronosticare Sappiamo che in questa giornata si giocheranno ancora purtroppo solo 8 partite e non 10 In attesa del dispositivo datato 29 agosto sui ricorsi della regina e delle altre squadre da parte del Consiglio di Stato In attesa di quel dispositivo per il momento si giocheranno solo 8 partite Mi raccomando però, prima di partire col video e dirvi quali match ho deciso di pronosticare Che sono sempre 5-6 partite, vi doi chiedere un pollicino in su qua sotto 30, 40, 50 Mi piace qua sotto, un'iscrizione al canale totalmente gratuito ragazzi Mi raccomando iscrivetevi e noi partiamo subito Partiamo dalle partite che ho scelto che sono Sampdoria-Pisa, Cremonese-Bari Ci facciamo Comoreggiana, Catanzaro-Ternana che è la quarta partita che vi dico E l'ultima ragazzi è un bel, comunque un Venezia-Cosenza può essere una partita interessante O magari anche un Modenasco, li vediamo un po' Partiamo da Catanzaro-Ternana 1-1x, vi do o vittoria al Catanzaro o pareggio alla Ternana Perché il Catanzaro l'ho visto molto bene contro la Cremonese a Cremona Giovanni Zin ha fatto un primo tempo di assoluta qualità E soprattutto qualità e quantità anche Ed è per questo che la vedo più avanti nel percorso rispetto alla Ternana di Lucarelli Che ha fatto una buona impressione a tanti all'esordio contro la Sampdoria A Terni però credo che come identità, come giocatori, come procedimento del percorso Credo che il Catanzaro sia avanti e possa sfruttare questa partita Per mettere in saccoccia i primi tre punti della stagione Comoreggiana è l'altra partita che andiamo a pronosticare Comoreggiana vedo un X, vedo un X pieno Per la regiona sarà la seconda trasferta consecutiva in questo campionato La prima persa 1-0 contro Cittadella La seconda andrà a affrontare una squadra come il Como Sicuramente più forte sulla carta per i giocatori Per qualità tecniche presenti in rosa Ma un Como che viene da una sconfitta pesantissima Per 3-0 contro il Venezia Dove ha fatto vedere veramente poco E credo che quantomeno un pareggio possa strapparlo Contro una Reggiana che un minimo di identità Dopo due mesi e mezzo di lavoro adattato di Alessandro Nessa Si sta vedendo Invece per quanto riguarda Moreno Longo Lo vedo ancora un po' dietro nel percorso Ma credo che un pareggio possa essere esoto più probabile Per questo tipo di partita Andiamo con Cremonese-Bari Partita bellissima Ragazzi il Giovanni Zini va in scena un big match Due squadre che alla prima giornata hanno parigiato entrambe La Cremonese per 0-0 Il Bari anche per 0-0 Entrambe alla ricerca del primo gol stagionale Il Bari con tanta assenza si presenterà al Giovanni Zini Senza i Maita e i Cesare squalificati Non c'è Jeremy Menez per infortunio Credo che non ci sia neanche Davide Dio per infortunio Quindi un Bari un po' magari rimaneggiato Affronterà invece una Cremonese con tutti i giocatori disponibili Vogliosa di fare i primi tre punti ancora una volta con la possibilità di farli davanti al proprio pubblico Credo che questo possa succedere Vi dico uno tra Cremonese e Bari Credo nella vittoria della Cremonese Credo che per Ballardini possano arrivare i primi tre punti di questa stagione Ma credo anche che sarà una bella partita molto combattuta Con tante occasioni da gol Con due squadre che non speculeranno una sull'altra Ma provaranno a giocare un bel calcio Che possa far uscire poi fuori una partita bella Da serie B, da alta classifica serie B Come sarà Cremonese-Bari Andiamo avanti con la quarta partita Ragazzi un bel Sampdoria-Pisa Non si può non pronosticare Vi dico subito che per noi finirà in pareggio Vi dico X tra queste due per questa partita E l'esordio stagionale per il Pisa Una squadra nuova con Alberto Aquilani in panchina Con Barberis e Valotti nuovi acquisti Che alzano di molto il livello della qualità della Rosa Soprattutto al centrocampo Un centrocampo che potrà essere composto da Valotti, Barberis e Miguel Deloso Tanta tanta roba per qualità tecnica e quantità E affronterà una squadra in costruzione come la Samp Che anche negli ultimi giorni sta mettendo acquisti interessanti Come uno su tutti come Stojanovic Che arriva dall'Empoli, terzino destro interessante, forte Che in Serie A ha fatto vedere ottime cose Può fare bene in Serie B E come Facundo Gonzalez, difensore centrale Arrivato in presso dalla Juventus Che può essere un'alternativa, un titolare Magari importante nella costruzione dal basso Per Andrea Pirlo Vi dico X perché vedo un percorso appena iniziato per entrambi Abbiamo un pareggio, credo che sia il risultato più giusto Ultimo match, Venezia-Cosenza Vi dico 1-1 del Venezia Anche se il Cosenza è una squadra che cos'è una gioca a calcio Quest'anno può provare a fare tanti dispari a tante squadre Ma credo che il Venezia sia più forte In casa può cavalcare l'onda dell'entusiasmo Per il precedente 3-0 Data contro il Como E quindi credo che il Venezia abbia tutte le cartine regole Per vincere questa partita Pollicione sul video, iscrizione al canale Noi ci becchiamo, al prossimo video Bella ragazzi